Mercatini di Natale. Il bando appena lanciato dal Comune di Como è già fonte di polemiche. Nello specifico, l'ex assessore Marco Butti, che non essendo stato riconfermato in Consiglio Comunale, lancia i suoi strali dalla pagina Facebook, urla al plagio. O meglio, al copia e incolla per usare le sue esatte parole. A ben guardare i bandi, però, le differenze ci sono e come. Una, in particolare, è macroscopica. Il precedente bando per il Natale, come da tradizione, era omnicomprensivo, un maxi-affidamento da oltre un milione di euro. L'amministrazione rapinese, invece, ha spacchettato l'assegnazione dei servizi per il Natale. Questo bando, quindi, riguarda prevalentemente mercatini e spettacolo pirotecnico, ma non include, ad esempio, giostre o piste da ghiaccio, come accadeva negli anni passati. Secondo punto, l'area di concessione. Nel precedente bando, l'amministrazione di cui faceva parte Butti, cedeva come spazio per i mercatini nove aree del centro storico, piazza Grimoldi, via Pretorio, piazza Roma, piazza Verdi, via Maestrico Macini, piazza Cavour, via Muralto, lungo l'Ario Trento e via Corridoni. L'amministrazione rapinese limita i mercatini a tre sole zone, piazza Cavour, via Corridoni e piazza Grimoldi. Altra differenza non di poco conto. In passato, si concedeva la somministrazione di alimenti in piazza Roma, via Corridoni e lungo l'Ario Trento. Quest'anno, invece, frittelle, vimbrulè e spianata Calabra potranno essere consumati solamente in via Corridoni. E ancora, il numero di casette, 87 nel 2018, 97 nel 2019. Quest'anno, invece, saranno massimo 73, un quarto in meno. Infine, arriva quella clausola sul fatturato che lo stesso ex assessore Butti ha notato. Il vincitore del bando dovrà devolvere il 10% del fatturato al comune che destinerà queste risorse in beneficenza. Fatturato non utile. Così, se il gestore decidesse, ad esempio, di raddoppiare il canone di affitto delle casette, il comune riceverebbe il doppio dei soldi da devolvere in beneficenza. Insomma, le differenze ci sono e come? Basta saperle o volerle vedere. Al netto del gioco delle parti, che si sa, in politica, a volte, conta più della sostanza.